Quarta puntata del mio canale, quarto video del mio canale, il rosa nero di Wolverhampton. Sono tifoso del Palermo e vivo Wolverhampton in Inghilterra. Che dire, questo è un video post Palermo, anzi post Bali Palermo, con commento e pagelle. Perdonatemi il mio quarto video, se vi piace il mio lavoro, iscrivetevi e commentate, mettete il like, ditemi cosa posso migliorare, ho iniziato da poco, le critiche, criticatemi sempre con giudizio, critiche giuste, e poi nulla. E quanto è bella questa maglietta, è una replica, è del Napoli credo di Maradona, poi c'è il cappellino del Celtic, ma veniamo a noi, io farò un titolo, sarà The Rise of Bro, Bari Palermo del Rise of Bro. Io non capisco il Sud Tirol, non vorrei essere un tifoso del Sud Tirol, si ha visto Bari Palermo e visto le altre precedenti partite, che non si capisce come mai non l'hanno riscattato. Forse ancora non hanno un allenatore dopo praticamente aver esonerato Zauri nel precampionato. È un peccato perché il Sud Tirol è una specie di Kashmir italiano, una specie di Crimea italiana, cioè maggioranza di lingua austriaca e tedesco-austriaca, storicamente sempre stata Austria. Io l'abbiamo scippata, loro la recriminano e la recriminano sempre. Ogni volta che c'è uno di destra rompono i coglioni per il Sud Tirol o l'Alto Adige. E ci hanno ragione, c'è poco da fare. Vabbè, noi potremmo parlare un po' dell'Istria, però là è molto di più, molto peggio. La situazione è molto peggiore. Sicuramente là ci sarà un Novalezio austriaco che ci avrà fatto un video riguardo. Ma detto tra di noi, ritorniamo, questo non è un canale di geopolitica. Se lo volete, commentate che apro pure un canale di geopolitica. Dopodiché, parliamo di cose serie adesso. Bari-Palermo. Cominciamo con le pagelle. Pigliacelli. 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 Sette. Sa stare in porta? Assolutamente sì. È bravo coi piedi? Assolutamente sì. È un portiere da Serie B? Sì. Cassano avrebbe detto no? Sì. Assolutamente. Perché lui in porta ci sa stare e sa fare grandissime parate. Poi è pure bravo coi piedi. Deve solo capire che poi gli attaccanti capiscono come lui gioca. Questo è successo un po' nel secondo tempo. Sapevano come marcare pure lui, come pressare pure lui. Però è tanta roba. È tanta roba. Anche in porta si sa tuffare. Ottimi iglesi, ottimi tuffi. Quindi mi dispiace per i promassolo, ma non c'è paragone. Ed è anche bravo nelle uscite alte, che era uno dei pregi dell'altro. Come si chiama quell'altro? L'altro toscano, l'altro portiere toscano. Era bravo nelle uscite alte, mentre sono il punto d'Achille di Massolo. Però lui è bravo in tutto, quindi io me lo tengo stretto. Poi butta Rosette perché ha salvato. Non ha salvato, ha fatto il suo lavoro. Attaccavano molto dall'alto destro. E lui è stato puntuale, preciso, bravissima. Ha preso un'ammunizione, ma è il suo lavoro quando ci sono giocatori forti tecnicamente. È normalissimo che prendi un'ammunizione. È normale. Quello mettiamocelo in conto. Infatti Pierozzi giocherà molto spesso anche come alla destra. Anzi, peccato per Dota che a quanto pare non rientra nei piani. Un vero peccato perché giocherebbe sempre. Le ammunizioni arriveranno a grappoli. Appunto, parliamo di Marconi. Molti ho letto che hanno criticato Marconi. Quando un'espulsione è fatta stupida, quando è stupida, è da punire. Quando invece è un sacrificio, è da elogiare. Quando c'è un attaccante, mi pare che tira, era diretto in porta e tu invece di farlo segnare perché sei bestato il 2-1, ti fai buttare fuori, è da premiare. E poi in generale ha fatto un'ottima partita. Quindi voto 7. Solo che se sulle scatole all'ambiente, proviene dalla C, c'è poco da fare. Tutti vogliono barba senza neanche sapere chi è barba. Che tra l'altro ha fatto un'ottima partita ieri col Benevento contro il Genoa. Eh, se sto finito a 0-0 è pure medito suo. Non si discute. Ma tutti vogliono barba a prescindere perché... perché... perché lui è così. C'è poco da fare. Marconi non serve. Cosa sbagliatissima. Poi abbiamo il rumeno, il Dracula. Ha un cognome impronunciabile. I miei colleghi si chiamano Anastase, Pop, Doboli, Poppa. Cognomi facilissimi. E lui se ne esce con questo... del resto è raro. Vabbè, Dracula. Dracula forte. A parte c'è la faccia da Dracula. Vestilo da Dracula. Ha il corpo di Dracula. Alto 2 metri. Cappelli neri. Eccezionale. Voto 7. Non ha sbagliato nulla. Si vede che è di categoria. Anzi, molto più della categoria. Poi abbiamo sull'auto sinistra abbiamo... chi avevamo? Chi avevamo? Crivello. Gioca meglio in B. Però siamo ancora... facciamo 6 perché comunque il suo dovere l'ha fatto. Devo dire che comunque riesce a contenere difensivamente l'avversario. Devo dire che... nulla di che. Non si può aspettare altro tecnicamente. Si vede che è un'altra cosa. Quindi se buttalo prende 7, lui prende 6. Non è il titolare. Sala che ne avrà per un'altra settimana se tutto va bene. E niente. Ci vorrebbe un altro terzino sinistro lì. C'è poco da fare. A centrocampo è ovviamente il migliore in campo che è Bro. Voto 8 perché è impressionante. 7 e mezzo dai. 7 e mezzo Bro perché è impressionante. Corini è stato impressionante pure. Per lui voto 7. Già lo anticipo perché l'ha messo quasi mezz'ala a destra. In modo che tatticamente faceva... metteva in forte difficoltà tutto l'out destro del Bari. Se la giocava molto bene con Buttero. Buttero... ottima conversazione, ottimi dialoghi con Buttero. e Delia. Delia molte volte scendeva per fare salire Bro. Che ha fatto benissimo. Tutto. Tecnica, inserimento, difesa, attacco. Eccezionale. Non si spiega ancora. Infatti nel video metterò surprise. Motherfucker. C'è ragione. E ho ragione. Impressionante. Siamo tutti sorpresi da Bro. Non me l'aspettavo proprio. Sapevo che era forte perché su Tirol aveva esploso. Ma non così. Impressionante. Se il segre non avrà fida facile. Suat sì. Ma lui farà... Lui sarà proprio il cassico regista. Alto, basso. Questo dobbiamo ancora vedere. Quindi abbiamo... Quindi abbiamo... Poi abbiamo Damiani. Damiani 5,5. Avebbe peso 6, 6,5. Però una leggerezza del genere. C'è questa moda che quando ricevi fallo, accenti la caduta, butta sta cazzo di palla fuori. E non pareggiavano. Probabilmente pareggiavano un'altra volta. E niente. È caduto il suo porto. Scusate. Allora. Tirolo con la manina. Allora. E niente. Stavo dicendo. Damiani. Se è sta moda che tu cadi. Praticamente ti tocca e tu cadi. Butta sta cazzo di palla fuori. Per il resto partita ordinata. Contrastato. Solo che rispetto a Bro è un'altra cosa. Però Damiani può fare meglio. E giocherà. Ma giocheranno tutti tanto. Fino al sedicesimo uomo. Poi tra l'altro ormai ci sono cinque sostituzioni. Possiamo ben capire che... Giocheranno tutti. Giocheranno tutti e... Quindi passiamo oltre. Passiamo a Floriano. Il primo tempo fantastico. Incredibile. Gioca meglio adesso che... A parte gli ultimi sei mesi in Serie C. Che il resto della sua avventura in rosa-nero. Questo perché volere potere. Tutto questione di mente. Soprattutto di affidamento tra compagni. E... Quindi ottimo. Poi va a calare. Lo sapevamo. Ma il Palermo non ha alternative. E quindi ha giocato molto di più del necessario. Perché sapeva anche altre alternative. Sicuramente veniva cambiato. Ma... C'è poco da fare. Palermo in emergenza. Grazie a Baldini. Che non voleva comprato nessuno. Un casino tra De Rose. E Luperini. Qua Luperini poteva servire. Molto. E lui ha preferito andare a Perugia. E credo che giocherà subito titolare. Il giocatore non si discute. Però non si sono capiti. Peccato. Un vero peccato. Un rinnovo ci poteva pure stare. Questa storia della transizione. Transizione è una cosa un po' che ci tiene prigionieri. Perché tu non rinnovi. Perché l'anno prossimo poi rifai il super squadrone. Ma nel frattempo questi sono pure uomini. Vogliono delle certezze. E Perugia gli ha fatto un triennale. E quindi nulla. Passiamo oltre. Elia non ha fatto come il Perugia. Semplicemente perché era più marcato. Squadra diversa. Molto più forte il Bari del Perugia. E quindi però ha fatto delle cose bellissime. Dei notevoli gesti tecnici. Non si è fatto mancare nulla. E veramente un bel giocatore questo. Spero che sì. Mi pare che c'è il diritto di riscatto e contro riscatto. Comunque un bel giocatore. Voto... Ah dimentiché di voto per Floriano. Mi sembra no? Quindi vabbè. Gli do sei e mezzo. Ottimo. Forse sei. No sette. Ha fatto l'assist per Valente. Assolutamente. E per Elia sei e mezzo. E Valente ovviamente voto... Eh... Voto sette. Finché ha potuto. Arranno retto le gambe. Ottima partita. Te va a fare il 2-0. Però Valente... Sì è digevoluto in barone. Che ancora aspetta la palla di Inzaghi. Ha 50 anni. Uguale. Purtroppo quando capita. Il tuo attaccante che ha la palla giusta. Non sempre te la può passare. Con il gol di Elia Brunori era obbligato a fare con l'assist meraviglioso. Era a 40 metri dalla porta. Ma se l'attaccante punta la porta è difficile te la dà. Peccato. Con il 2-0 non so come sarebbe finito. Minimo 2-1. Però poi... Valente sette. Poi chi c'è? Ah. La punta di diamante. Brunori sei. È impossibile non dare sei. Falsare la squadra. Salta l'uomo. Dribla. Fa fare tanti falli. Fa salire la squadra. Ed è un attaccante. Quindi non facilmente passa la palla. E ha fatto bene a provarci. Perché comunque il portiere ha fatto una bella parata. Non è che l'ha buttata fuori. E se puoi segnare. E i marò. Quindi ha fatto benissimo. Migliore del Bari. Chedira. Che ora tutti hanno iniziato la chedira mania. Un bravissimo ragazzo. Sembra. Nelle interviste. Ho letto sobbiocafria. Marocchino. Ma italianissimo. Un bellissimo esempio di integrazione. Mi inorgoglisce quando vedo queste situazioni. E nulla. E qua risaltiamo sempre Marconi. Che cazzo doveva fare quello? Lo posso solo abbattere. Un po' come quando Cannavale e Sturam. Mi raccontavano Ronaldo. Che potrei fare. Lo abbatti. Fare un pareggio a Bari. E tanta tanta Roma. Queste sono due squadre che faranno molto in questo campionato. Io la vedo brutta. L'ho detto. Nel Reels. Pregara. Finché il centrocampo regge. Già la possiamo portare anche un pareggio a casa. Mi ho rischiato. Perché poi Bro e Damiani. Gli unici. Non c'erano più. Dalla prossima partita ci saranno Sturaz e Segre. Se Dio vuole. Perché ancora Segre non si è capito. Quando uno è a Torino. Lui ancora no. Il problema è che quando arriva un giocatore. Che puoi farlo sempre giocare. Ma almeno è in panchina. E poi dovrebbe arrivare il fenomeno dell'Ascoli. Mi sembra che poi mi abbia offerto 1,7. Forse addirittura a voi ci dicono 2 milioni. Siamo ancora. Vediamo. Se no. Perché non prendessi ignore. Alla facciazza loro. Loro vogliono ignore per sostituire questo ragazzo. E noi ci prendiamo ignore. Per il resto. Niente. Con opinioni. Partita difficile. La portata a casa è tanta roba. Tantissima roba. E vediamo ora la prossima. C'è l'Ascoli in casa. Vediamo se si può chiudere prima. Se si può chiudere dopo. È complicato. Serve almeno un altro centrocampista. Un vero terzino sinistra. A parte Sala. Ah no. C'è Devetac. Giusto. Che è già arrivato infortunato. Quindi per questo ha perso una settimana. Di visite mediche. Brava la società. Non fidarsi sulla parola. Perché sono famosi. Quando molti giocatori. Appena comprati subito. Infortunati. Stranamente. Ingegneri. Ne paremmo. Ma ci sono tantissimi esempi. In giro per il mondo. Fa bene che la società. Ti fa fare una settimana. Di visite mediche. Prima di tesserarti. Detto questo. Mi stanno seccando le labbra. E non ho altro credo di aggiungere. Se no. Non lo so. Corini 7. Ha fatto quello che poteva. Il massimo. Ottimo. Continuiamo così. E riempiamo lo stadio. Voi che potete. Che state a Palermo. Per favore. Andate a riempire lo stadio. Abbiamo bisogno di voi. Se vi è piaciuto questo video. Se state ancora qua. Non ti dimenticare. Di iscriverti al canale. Per favore. E mettergli. Vabbè. Mi piace pure. Vabbè. Mi interessa. E critiche costruttive. Così io capisco. Se è il caso. Di continuare. Dopodiché. Vi saluto. Per chi mi è arrivato fin qui. E niente. Alla prossima. Un bacio.